Buonasera amici sportivi, quarto appuntamento stagionale con goleata, mercoledì 18-8, siamo già arrivati alla quinta giornata di prima e seconda categoria, la quarta invece per quanto riguarda la terza categoria. Vado subito a presentare gli ospiti stasera arrivati qui agli studi Super J, che sono due amici che rappresentano il Campli Calcio, per la prima volta credo ospiti di goleata, con piacere vi vado a presentare Francesco Luigi Cipriani, Luigi Cipriani team manager del Campli, grazie a Luigi della tua presenza qui e al tuo fianco abbiamo il capitano della squadra Daniele Tosi, buonasera a tutti, grazie anche a Daniele di essere qua con noi che ci racconteranno le vicende del Campli, il Campli è squadra importante, piazza importante, storicamente è una piazza cestistica, però da qualche anno ormai il vostro lavoro sta premiando perché vedo entusiasmo, le squadre sono sempre più competitive e quest'anno avete la possibilità di fare molto ma molto bene, poi ce lo direte meglio voi, le prime partite sicuramente lo testimoniano su tutti, il 3-3 da 0-3 contro il fortissimo Nereto, saluto in regia Cristian De Luca, dopo la carrellata di risultati dico subito che ce ne andiamo, collegamento telefonico con Guido Azzari, allenatore del Terramo Stazione, ma soprattutto carissimo amico di Pierpaolo Sorgi, venuto a mancare pochi giorni fa, penso lo conosciate tutti, lo ricorderete tutti, grandissimo bomber Paoletto Sorgi, ha vestito tante maglie, soprattutto delle squadre della Val Vibrata, è venuto a mancare improvvisamente pochi giorni fa, quindi lo ricordiamo con questo intervento telefonico di un amico che lo conosceva molto ma molto bene. Andiamoci a vedere però subito i risultati del fine settimana, si è giocata la quinta giornata in prima categoria a girone D, colpo del Terramo Stazione, appunto di Guido Azzari vi faremo anche i complimenti per questo successo, non facile sul campo del Castagneto per tre reti a due, pareggio tra Cellino e Castrum 1-1, Insula-Tedico-Lempa 2-3, quindi altra vittoria in trasferta di prestigio per la squadra di Nardini, 1-1 Lions Villa ferma la capolista Universal Roseto e ne approfitta il Casoli che invece esce vincitore dallo scontro con il Nepezzano esterno e balza al comando, come vedremo tra poco, della classifica. 3-4 tra Santa Croce e Atletico-Terramo, sempre più in alto, bomber Simone Cicconi, poi vedremo anche la classifica marcatori, 1-0, primi punti del Silvi che ha avuto delle burrasche con un doppio cambio tecnico in panchina in settimana, non ne risente la squadra che anzi si aggiudica l'intera posta in paglio contro il Torricella, 1-0. Classifica, vediamola, appunto dopo 5 giornate conduce a punteggio pieno il Casoli di Mister Di Marzio, segue l'Università Roseto a quota 13, 12 per il Teramo Stazione, 10 la Castrum 2010, 9 Atletico-Lempa, 7 Castagneto-Nepezzano, 6 per l'Atletico-Teramo e Insula, 5 Torricella, 3 Cellino, Lions Villa e Silvi, chiude a 0 il Santa Croce, ancora a secco di punti. Scendiamo nel campionato del Campli, la seconda categoria giornalmente, anche qui 5 giornate, quinta giornata Bisenti-Cortino 1-3, con l'atterrato Campli 1-3, avete vinto qui a pochi passi dagli studi Super J, poi ci direte com'è andata. Martinsicuro-Adranus 0-1, continua il momento magico dell'Adranus che si va a prendere un'altra vittoria in un campo non facile, Miano, Basciano-Pontevomano 2-3, Nereto-Cologna 1-1, è il big match di giornata, in molti pronosticavano il Nereto, invece Cologna è andato a prendersi questo importante punto. Real Castellalto-Paterno-Tofo 0-2, anche questa vittoria è importante per il Paterno-Tofo, un campo difficilissimo, e pareggio 1-1 tra San Nicolese e Controguerra, riposato il Bellante. Vediamo la classifica, molto ma molto corta, perché in due punti ci sono sei squadre, quindi 11 punti per Campli e Nereto, il Campli raggiunge in vetta, il Nereto l'avete raggiunto sul campo domenica scorsa da 0-3 e adesso anche in classifica approfittando di un altro pari della capolista. 10 punti, quindi un gradino sotto, Cologna, Cortino e Adranus, quindi siete tutte lì, 9 Paterno-Tofo, 7 Controguerra e Real Castellalto, 6 per il Bellante, 4 Basciano-Pontevomano e Martinsicuro, 3 punti per Bisenti, Miano e San Nicolese, chiude ancora a 0 punti il Colle Atterrato. Non abbiamo finito con i risultati perché possiamo scendere in terza categoria, a cui si è giocata la quarta giornata, Castelli-Nuova-Toranese 3-4, i Mocianesi-Atletic-Tortoreto 1-3, i Mocianesi hanno giocato per la prima volta nel nuovo impianto Mario Rodi che la settimana precedente aveva visto scendere in campo il giorno prima, il Mociano-Favale era stata la prima partita di questo nuovo bellissimo impianto, non è servito per i Mocianesi che comunque hanno perso contro l'Atletic-Tortoreto. Poggese, Piano Grande, anche questa partita si è conclusa 1-3 per gli ospiti che continuano nel momento positivo, Rialpineto-Corropoli 0-3, la capolista vola, Rocca-Santa Maria-Cerchiara 2-2, il derby che l'avevamo un po' definito il big match di giornata, Sant'Ottantanove-Virtius-Roseto 1-3, Tossicia-Polisportiva-Pinetum 2023 0-1, continua a volare, Piano Grande-Polisportiva-Pinetum, squadre matricole nuove arrivate che stanno vendendo cara la pelle in tutti i campi, anche Tossicia non era proprio un campo facilissimo visto gli ultimi campionati del Tossicia, e poi Valle del Vomano, Casemolino 3-0, classifica di terza, eccola qui, al comando a punteggio pieno il Corropoli, quindi ogni campionato ha delle squadre in vetta, tranne nella seconda D a punteggio pieno, 10 Rocca-Santa Maria, 9 Nuova Toranese-Piano Grande-Polisportiva-Pinetum-Valle del Vomano, 8 Cerchiara, 7 Virtus-Roseto, 6 Atletic-Tortoreto e Tossicia, 3 Mocianesi, 2 Poggesi, 1 Casemolino e Casemolino Castelli, chiudono a 0 punti, Real Pineto e Sant'89. Tra un attimo andremo con l'analisi dei campionati, partendo chiaramente dal Campli, però avevo detto in apertura abbiamo il collegamento telefonico, credo sia pronto, con l'allenatore del Termostazione, ma stasera in veste di amico di Paletto, Pierpaolo Sorgi, a cui chiediamo a Guido un saluto, un ricordo di questo uomo, questo calciatore che ha lasciato davvero un ricordo indelebile nel cuore, nella mente di tutti gli appassionati calcistici della nostra provincia e non solo. Buonasera Guido. Buonasera Angelo, buonasera ai tuoi ospiti, a Daniele e al direttore Cipriani. Buonasera, buonasera a Mister. A Mister. Guido, ci abbiamo detto tu chiaramente, ho pensato a te, erano due o tre, mi hanno fatto due o tre nomi di persone che potevate un po' rendere omaggio a Pierpaolo, a questo uomo, a questo bomber, perché per noi è stato un grande bomber, per te immagino molto più che un bomber, un amico, quindi adesso l'unica cosa era un saluto, un ricordo da chi veramente l'ha conosciuto e gli ha voluto bene. Angelo, purtroppo non è di mattina, è stata una notizia straziante, perché niente, però ci faceva presagire a tutto ciò che è successo. 52 anni, giovanissimo. Sì, 52 anni e niente, purtroppo poi ieri sono stato in chiesa, la gente che c'era, ma c'era gente di tutta età, dirigenti, presidenti, calciatori, calciatori giovani, era uno che nel calcio ha lasciato un grosso segno, perché poi era uno che faceva pure gol, ma soprattutto il segno maggiore lasciato era a livello di uomo, perché lui era un ragazzo eccezionale, uno che quando lo vedevi stava sempre col sorriso, era una persona squisita, era una grossa perdita per la comunità poi di Sant'Egidio, ma anche chi lo conosceva bene, Paolo rimarrà nel cuore per sempre, perché uno è un ragazzo eccezionale, quindi siamo ancora scossi da quello che è successo, non se ne riesce a fare una ragione, sono molto vicino alla famiglia, perché immagino il dolore che stanno provando, quindi sono cose che te lasciamo senza parole perché non riesci a farti una ragione. Il primo pensiero naturalmente è per i suoi cari, per la famiglia, per tutti gli amici che lo hanno vissuto, che lo hanno conosciuto. Calcisticamente sto scorrendo un pochino, guido le squadre dove ha militato Paolo, che sono tantissime, Sant'Egidiese, Nereto, Sant'Omero, Albatriatica, Martinsicuro, Bellante, Favale, Ate di Colemba, non so se tu hai incrociato un po' il percorso calcista. Allora Angelo, ho avuto la fortuna di giocare con lui perché per me erano i miei primi passi del calcio nel 94-95 con la Sant'Egidiese in Serie D, lui c'è qualche anno più di me e lui già era un giocatore affermato per la categoria, io ero un giovane ai primi passi e lì, vabbè, poi lo conoscevo prima perché sono i Sant'Egidio, i vari tornei di calcetto rionali, quindi ci si incontrava sempre. Poi non ci siamo incontrati più, non abbiamo giocato più insieme da quell'anno, però eravamo degli amici, quando ci vediamo ci fermavamo a parlare. Lui è un Sant'Egidiese doc, perché lui abita a Sant'Egidio, vive la quotidianità di Sant'Egidio, è un tifoso della Sant'Egidiese. Andava sicuramente a vedere partito tre domenica, ma lui poi il calcio vede tantissimo quanto poteva se lo vedeva un po' ovunque, ha avuto pure una parentesi da allenatore. Da allenatore, infatti ricordo, mi sembra un anno alla Juniors, non mi ricordo una Juniors allenato, anche l'Atletico Lempa se non mi scordo, il Favale. Sì, sì, Favale, pur l'Atletico Lempa è stato, però non so, penso da giocatore, però è stato l'Atletico Lempa. Lui come giocatore era il classico attaccante che non voleva avere mai contro, perché piccolo, rapido, è uno che andava sempre in doppia cifra a fine stagione, perché poi la porta la vedeva bene. insomma, ecco. Qua dire di più, Angelo, veramente è stata una mazzata grande, perché nessuno se l'aspettava, perché, ripeto, non c'era niente che faceva presa a giro e tutto ciò. Perdiamo veramente una persona, verrà a mancare una persona veramente squisita, insomma. Guido, guarda, sei stato gentilissimo, penso che era doveroso, perché sarebbe bello ricordarlo, Paolo, insomma adesso ci penseremo, le società sicuramente. Sì, sono sicuro che verrà fatto, perché poi l'altro giorno ho visto diverse maglie di società, ho visto presidenti, dirigenti, allenatori, ho rincontrato gente che non vedevo da 20 anni, quindi Paolo è uno che se lo conosci lo ricordi per forza, perché lascia sempre ben ricordi, perché, ripeto, è una persona solare, è una persona educata, è una persona tranquilla, quindi chi l'ha conosciuta sicuramente non l'avrà dimenticato e ieri non è venuto a meno, ma a dargli l'ultimo saluto, purtroppo è così andato. E noi ti abbracciamo, come abbiamo già detto tutta la famiglia e tutti coloro che hanno voluto bene. Paolo, non ti chiedo nulla del campionato, perché mi sembra fuori luogo, ti aspettiamo qui in studio per parlare anche di campionato e di quello che stai facendo di buono lì a Terramo Stazione. Grazie Guido. Grazie a te Angelo, buona serata. Grazie a te. Quando poi vanno via i pezzi che per tanti anni, decenni, incontravamo nei campi, è sempre una cosa triste e poi improvvisa, come ci ha spiegato Guido. Un grosso dispiacere. Insomma, bisogna ripartire, proviamo a ripartire perché la vita è questo. Veniamo al Campi, Luigi e Daniele. Quest'anno poi sei tu in questo ruolo, tu hai giocato, vieni dal calcio giocato, adesso il Presidente ti ha chiesto, hai dato questo ruolo particolare, di collante tra la società e la squadra. Esattamente, sono stato giocatore del Campi sin dalla nascita della società calcistica, sono stato uno dei promotori che ha spinto il Presidente Francesco Isidoro a raccogliere la presidenza di questa società. Ho fatto molti campionati con loro, poi per motivi lavorativi sono dovuto andare all'estero e quindi ho dovuto abbandonare la famiglia Campi Calcio. Sono tornato da qualche anno e grazie al lavoro iniziato l'anno scorso dal nostro DS Cialani Alessandro. Ho notato che comunque c'erano dei cambiamenti e dei modi di fare diversi, c'era voglia di crescere e sono stato contattato sia dal DS sia dal Presidente per ricoprire questo ruolo, per cercare di migliorare anche l'assetto societario e anche poi la squadra di sé per sé. La classifica intanto come vediamo sorride, perché in ordine alfabetico, siete davanti al Nereto, ma comunque avete gli stessi punti di un Nereto che è la favoritissima, non me ne vogliono gli amici di Nereto, una squadra forte, come anche siete forti voi, ma l'avete affrontato e ne è uscito un rocambolesco, 3-3-0-3 avete recuperato, quindi avete dimostrato di poter competere e lo state dimostrando poi partita dopo partita, forse a qualche punto vi manca anche. C'era la prima di campionato contro il Castellalto che non è andata molto bene, abbiamo raccolto un pareggio, poteva andare meglio la partita, però sappiamo che il campo poi è quello che è la parola del campo, è quella definitiva. Esattamente, sì. Chiediamolo a Daniele, che è esperto, poi è un aziendalista, quando sposa una causa Daniele rimane almeno per 3-4-5 anni, cavalcata a Castellalto, piano della lente, anche bellissime soddisfazioni. Adesso da qualche anno hai sposato la causa Campi, innanzitutto perché l'hai sposato la causa Campi, cosa ci trovi di così stimolante per continuare? Sei un giocatore forte, importante. Sono stato contattato e il progetto vi è piaciuto subito, comunque la società è una società sana, che si fa in 4-5-6 per darci il massimo, mi ci sono trovato bene, questo è il quarto anno, quindi ci sto bene, adesso quest'anno proviamo a fare qualcosina in più, grazie alla società e ai compagni, quindi vediamo, vediamo, vediamo come va. Iniziamo dall'ultima partita, venite da un 3-1 esterno con una squadra che ancora non ha raccolto punti, ma si sa, non è mai facile andare a vincere da nessuna parte, come è andata, la partita è… Guarda, se volete ve la racconterà Daniele che è stato in campo e ci potrà spiegare meglio. La partita, come hai detto tu, ogni partita è difficile quest'anno, anche con squadre meno attrezzate, siamo partiti bene, non riuscivamo a trovare la via del gol, poi verso la fine del primo tempo siamo riusciti a trovare il gol, secondo tempo siamo rientrati anche bene, partita sotto controllo, però era sempre difficile trovare il secondo gol, poi per fortuna la società quest'anno ci ha dato quei 2-3-4 giocatori che, come si dice, si accendono la giostra, uno è 7 case, che già quota 6 gol, quindi è capocannoniere tutte le seconde che devo dire, niente da cogliere agli altri, abbiamo Seccal che se inizia a sterzare non ce n'è per nessuno, abbiamo Ramilli pure che è un ottimo giocatore e quindi poi 7 case ha acceso la giostra e ha trovato il secondo gol, poi ci hanno segnato su punizione un grandissimo gol e poi un'altra volta 7 case con il suo sinistro ha chiuso. Invece sulla partita con il Nereto, abbiamo avuto un ospite che aveva visto soltanto i primi 45 minuti, lì avete dato un segnale un po' a tutto il campionato, perché fino a quel momento il Nereto sembrava anche voi in Coppa l'avete affrontato? Li abbiamo affrontati in Coppa e il risultato secondo il mio punto di vista non è stato veritiero, abbiamo disputato due bellissime partite, ce le siamo giocati quasi alla pari, poi loro hanno questi giocatori avanti che veramente fanno la differenza in queste categorie, ci hanno puniti poi sotto il profilo del risultato, però dal mio punto di vista a livello di gioco gli siamo stati alla pari e quindi quello è stato un primo segnale. Per quanto riguarda poi la partita disputata domenica scorsa, siamo riusciti a strappare un bellissimo pareggio dopo un primo tempo non molto 0-3, anche lì secondo me non veritiero, perché abbiamo preso due gol su calcio piazzato con le due bellissime protezze dei loro attaccanti, quindi abbiamo chiuso un primo tempo dove il 3-0 pesava a livello psicologico e quasi nessuno credeva che potessimo recuperare quella partita. Daniele, sono curioso di sapere cosa ha detto il mister di Giuseppe Antonio che salutiamo tra il primo e il secondo tempo a questo punto. Il mister ci ha caricati, come fa un mister, ha detto ci dobbiamo credere, ci dobbiamo credere, anche se, dico la verità, anche noi un pochino non ci credevamo, però abbiamo alzato le teste e poi abbiamo fatto 3 gol e diciamo che la potevamo anche vincere addirittura, però è andata bene da 3-0 a 3-3, non è che tutte le squadre riescono a fare, soprattutto contro una squadra come il Nereto. che poi dopo ha pareggiato anche lo scontro importante contro il Cologna dell'ultima giornata. Allarghiamo lo sguardo prima di fermarci per la pausa a tutta la seconda categoria, perché a Daniele e Luigi voglio capire, abbiamo detto, Campi c'è lì, adesso non so con quali obiettivi dichiarati, fare bene? Sicuramente quello di migliorare il percorso iniziato dall'anno scorso, siamo ripartiti dal gerone di ritorno, fatto splendidamente, guidati dal mister Tiziano, siamo ripartiti da lì con l'obiettivo di migliorare. Possiamo dire che i play-off? Sì, sicuramente sì, sicuramente è un campionato di vertice, non ci sbilanciamo più di tanto, però ci crediamo. Ci crediamo. Ecco, abbiamo detto quindi il Campi, possiamo annoverare tra le squadre che puntano a far bene, Nereto nemmeno lo devo nominare, il Cologna sono già venuti qui, anche loro il Presidente è molto ambizioso, non si è nascosto, infatti i risultati lo stanno dimostrando. Ci sono molte squadre attrezzate. Daniele aiutaci tu, perché sono tutti vicini, in 4 punti c'è mezzo campionato. C'è un gradino in più delle altre, il Cologna è squadra attrezzatissima, il Paterno è squadra anche allestita per fare i play-off almeno, l'Aranus anche, le diciamo tutte però sembra il Cortino anche, poi non è mai facile la domenica. No, assolutamente. No, c'è anche il Castellalto che abbiamo affrontato la prima partita. Credo che il Bellante abbia già riposato. Sì. Poi c'è anche il fattore… Certo, è ancora presto per definire con certezza il quadro completo, però sicuramente ci sono molte squadre attrezzate e di rilievo, come il Castellalto con cui abbiamo avuto modo di giocare, è una squadra molto solida, che giocano da molto tempo insieme, si vede che c'è un'affinità tra di loro e sarà sicuramente una squadra difficile da affrontare da parte di tutti. Domenica chi avete? Domenica abbiamo il Vicenti. In casa vostra. In casa nostra, sì. È una squadra che staziona nella parte destra della classifica, quindi affamatissima di punta, verrà a vendere gara la pelle come giusto che sia. Dopo esserci fermati qualche minuto, torneremo con un focus sulla prima e sulla terza categoria. Prima di fermarci dico soltanto che in prima categoria c'è questo Simone Ciccoli da Terrico Teramo che sta sorprendendo tutti, già quota 8 reti, quindi dopo 5 giornate 8 reti ha un bottino devastante e dietro di lui c'è Mario Bizzarri che non devo presentare io dell'Universa Roseto a quota 6, ho già detto di Michele Settecase, grazie Christian che ci dà anche la grafica, eccolo qui Simone Ciccoli da Terrico Teramo, un po' una sorpresa anche se in realtà poi dopo è da qualche anno che staziona, anche Luigi annuisce, è un uomo mercato è stato, possiamo dire così, è stato aggiudicato l'atletico Teramo che adesso gode delle prestazioni di Simone, abbiamo detto anche in seconda quanto bene sta facendo Michele Settecase, quota 6 gol e in promozione sono molto felice di vedere lì in alto Francesco Africani che si sta confermando grande bomber nonostante la giovane età, 5 gol per lui, c'è anche di Stefano De Fontanelli a quota 4, bravo anche lui e cito soltanto i ragazzi che giocano in società Teramane perché poi la classifica sarebbe ben più ampia. Ne parliamo di questo di tanto altro al ritorno dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo. Torniamo Goleada in compagnia di Luigi Cipriani e Daniele Tosi del Campli Calcio, rispettivamente team manager e capitano, abbiamo analizzato un po' il Campli, le ambizioni e anche la forza di questo Campli, è partito bene, è in vetta la classifica assieme a Nereta, abbiamo visto anche un po' il quadro di tutte le squadre, tante squadre forti di questo campionato di seconda D, abbiamo visto anche le classifiche marcatori, ora andiamo 5 minuti in prima e terza categoria perché non vogliamo lasciare nulla, poi altri mercoledì vedremo anche un pochino qualcosa di più sulla promozione, prendo delle parentesi su alcune squadre. Questa è la prima categoria con il Casoli che adesso ho qualche intervista, così l'ho raccolta anche in estate, non era molto chiacchierata come squadra, poi dopo col senno di poi escono fuori tutti. Qualche sentore io l'avevo sentito, ho avuto modo di parlare con alcune società che si sono scontrate in qualche amichevole, qualche sentore di una squadra competitiva io l'avevo avuto. E poi abbiamo chiaramente Universo Roseto, Teramo Stazione che è una matricola, ricordiamo, ci sono Teramo Stazione e Atletico Teramo che sono squadre che arrivano dalla seconda categoria e stanno facendo soprattutto il Teramo Stazione davvero molto bene. Conosco molto bene. E poi sono le classiche squadre di categoria che sono durissime da affrontare, i primi 3 punti li abbiamo detto per il Silvi, ancora a quota 0 il Santa Croce che adesso dovrà ricostruire un po' un gruppo dopo qualche partenza importante che c'è stata in estate. Prima categoria Daniele, tu lo conosci meglio di chiunque altro questo cambiamento, l'hai giocato, quante volte hai disputato? Un po' non mi ricordo quanti anni, però l'ho fatto abbastanza. Guarda, l'Universal Roseto è la squadra che è la più forte secondo me, il caso è il Mago, quindi il Mago. Ti ha allenato? Ti ha allenato mai? Poco, poco, a Mociano. Poi c'è il Teramo Stazione che pure Mister Azzari è fortissimo, poi è una squadra attrezzata, quest'anno molto attrezzata. Il Castagneto mi aspettavo qualcosina in più dal Castagneto, però sicuramente riuscirà a risalire la classifica. Poi l'Atletico Teramo anche matricola, però Lions Villa… Lions Villa ha fermato l'Universal, pochi sono i punti in classifica, ma prestazioni di livello. Sono tutti campionati molto aperti. Torricella rispetto allo scorso anno forse ha cambiato molto, è una squadra diversa rispetto alla passata stagione, l'Insula, squadra da cui si aspetta tanto, anche una rosa competitiva ai nastri di partenza, sta giocando ottime partite, perché poi dopo esce sconfitto sempre da battaglie, non è che regala punti a nessuno, però ha qualche punto in meno rispetto alle squadre che guidano la classifica. Non so se vuoi aggiungere Luigi qualcosa? Sì, dico solo che siamo ancora all'inizio, quindi ancora bisogna capire bene le posizioni di molte squadre, per esempio il Castagneto che ho avuto modo di vedere sia domenica, sia sabato contro il Teramo Stazione, una squadra molto forte, la reputo una delle migliori insieme al Roseto. Sono sicuro che verrà fuori durante l'arco della stagione. Anche il Teramo Stazione per me è una sorpresa, si è riconfermata di nuovo, comunque sia sempre sul pezzo, ha giocatori molto importanti, sono molto compatti perché molti giocatori vengono dalla seconda categoria, quindi non hanno stravolto moltissimo. Io sono, lo devo dire, me lo permetti, sono innamoratissimo del loro attaccante Manuel Matani che gioca con il Teramo, di cui ho molta stima a livello di calciatore. Hai cercato anche? Sì, sì, assolutamente, l'abbiamo cercato, è un mio collega di lavoro, quindi lo stuzzico sempre, però vedo che sta facendo anche lui bene lì e quindi mi fa piacere molto per lui. Perfetto, andiamo in terza, dedichiamo anche qualche minuto alla terza categoria, 4 giornate, quindi inizia a vedersi un po' un quadro in questo campionato sempre avvincente. Con Ropoli è una squadra un po' più citata, la vigilia e sta mantenendo le attese con 4 vittorie su 4. Poi c'è Rocca Santamaria che ha pareggiato l'ultimo derby, mi ricordo male, col Cerchiara, 2 a 2, se no anche il Rocca Santamaria era a punteggio pieno e poi insomma tante squadre, tante squadre lì tra i 9-8 punti, quindi ancora ci può essere qualche squadra che poi dopo può allungare, può andare a fare un campionato di vertice. Questo raggruppamento lo seguite? Alcune squadre sì, sono riuscito a seguire qualche squadra, il Casemolino che purtroppo… Casemolino rispetto alle ultime stagioni, insomma è una fucina di talenti che poi dopo vengono… Esatto, è stata proprio surpiata di moltissimi giocatori. Cicconi, no? Cicconi. Che ha 8 gol con l'Atletico Teramo, viene da lì. Sette case. Sette case. Montanari, ci sono molti giocatori che hanno lasciato Casemolino, ma sono sicuro, conosco la società, sono sicuro che anche loro riusciranno a recuperare strada durante la prima fase di campionato. Poi posso dirti… Ci sono delle nuove realtà? Sì, piano grande. Piano grande, qualche ragazzo lo conosco e squadra forte. Dove lo facevano amatori o è una nuova squadra che si è creata? Mi sembra che facevano amatori. Di solito le squadre nuove di terza vengono da… Rocca-Santa Maria conosciamo perché allenandoci l'anno scorso a Torricella, conosciamo la squadra, conosciamo molti ragazzi, una squadra forte, arriverà sopra, sicuro. Un gab vincente, insomma, l'anno scorso anno chiaramente c'erano Neredo e Bellante che hanno fatto un campionato a sé, quest'anno Corropoli permettendo dovrebbe essere un campionato bello equilibrato e avvincente, lo seguiremo come facciamo da sempre, terza categoria per noi sta al top, non vuole dire nulla, insomma il livello, anzi, il livello della passione ci interessa. Bellissima categoria. Allora, adesso andiamo a omaggiare i nostri ospiti con qualche foto, con Daniele abbiamo utilizzato dei ricordi fotografici della sua carriera calcistica, anche se sei ancora giovane, però hai già qualche esperienza alle spalle, invece con Luigi ci andiamo a vedere qualche aspetto del camp di calcio, da team manager ti tocca questo ruolo qui. Quindi adesso Cristian deve… partiamo proprio dalla gioventù, tu quando hai iniziato a giocare, da Daniele, da piccolissimo, non mi ricordo l'età, San Nicolò, il besto pre-sintetico. I primi anni… Quindi hai iniziato lì, dove hai giocato adesso? Sì, non mi ricordo se ho iniziato a Ponte Romano, a San Nicolò, però erano i primi anni, sì 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 sì, e là c'era un certo Alessandro Di Paolo Antonio lì. Ah, nella tua annata? Ho giocato insieme, sì sì sì. Caspita! Il mister è il mister Marietti quello? No 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 no, mi sembra Marietti quello. Questa che categoria? Questi erano giovanissimi nemmeno… Tu da sempre difensore sei stato? No no, ho fatto anche il centrocampista, poi vedendo i piedi magari… Stai indietreggiato subito! Quindi nasci da San Nicolò, hai fatto il settore giovanile a San Nicolò, infatti… Poi ho continuato a San Nicolò fino alla prima squadra. Abbiamo anche un… ecco, questa è un'altra foto del San Nicolò in compagnia di tutta bella gente. Sì sì, Di Sante, Davide, Federico Scroni… Eh sì, che è il rappresentante della sua azione calzatoria, Federico Scroni. Poi ci sta Daniele Di Camillo che è di Montesilvano e questo è l'anno che vincemmo il campionato d'eccellenza in San Nicolò. Eh, eravate un gruppo di ragazzi da poliquota, no? Sì, eravamo una squadra forte, forte, forte. Ci stava Alessandro, Scipioni, Stefano, Marco Villa, mio cognato Francesco Adorante. Che ricordi hai di quelle annate? Cosa ti hanno dato? Bellissimi, bellissimi, ero giovane, mi hanno aiutato tanto i più anziani, vincere un campionato d'eccellenza non è che capita a tutti, anche se non è che ho giocato moltissimo, però facevi parte della rosa e ho fatto una venticina di presenze, ho dato sempre il mio contributo, dai. Bello, andiamo avanti con il prossimo ricordo, la prossima foto. Eh, qua ci sono anch'io. Ah sì, questa era la… Non te lo ricordavi? Questa era la premiazione a Tortoreto. Esatto, questa era la prima notte degli Oscar, la prima notte degli Oscar si è a Tortoreto, se non ricordo mai qua sei stato forse eletto tra i migliori difensori della categoria, no? Sì, prima della prima, giocavo col Castellato. Col Castellato, sì. O promozione forse. No, forse miglior fuori quota. Eh sì, per miglior giovane, forse. Comunque sì, c'è Casimirri. Casimirri ci stava. Solo guardando la compagnia. Eh sì, sì. Era di prestigio. Eh sì, questa è la prima serata della notte degli Oscar che abbiamo fatto. È un bel po' di anni fa. Sì, questa è 2000… Non si è cambiato moltissimo. Sempre giovane, 10 anni fa. 10 anni fa. Qua il campionato ho vinto con Castellato. Eh credo proprio di sì. Castellato per me è ancora una famiglia. Quando vedo i dirigenti del Castellato, baci, abbracci… Quanti anni sei stato? Che parentesi è stata Castellato per la tua carriera? Castellato ho fatto il fuori quota, quindi ero giovane. Ero giovane, ci sono stato due anni di prima ho fatto e due anni di promozione. Quindi dopo San Nicolò sei andato a Castellato? Pure là eravamo una squadra forte di Serafino, Marco di Felice, Di Marco, però per me è stata veramente una famiglia Castellato. C'è un bellissimo ambiente Castellato anche di velocità. I risultati parlano… Quello era il campo di Castelnuovo. Di Castelnuovo? Tutti ricordi antesintetico. Vediamo se ce n'è qualcun altro con dei manti in sintetico. Questo non è in sintetico, credo, dalle immagini, o forse sì. Credo che sia il piano della lente questa. Il piano della lente, sì. Non so sul quale campo… Questo è all'acqua viva. All'acqua viva, quindi qua. All'acqua viva, anche a piano della lente abbiamo vinto i play-off di prima. Tante promozioni hai all'attivo. Con Mischer Zenobi, là pure. Hai vinto a San Nicolò, hai vinto a Castellalto, hai vinto a piano della lente. Mi sono divertito. Ti manca vincere col campo. Quest'anno ci proviamo anche qui. Che dobbiamo fare, capitano? Ci proviamo, ci proviamo. A piano della lente anche belli anni, ho bei ricordi. Sì, anche lì mi sono trovato molto bene, anche lì molto familiare. Non più da fuori quota, ma da giocatore che iniziava a essere più esperto. Un po' più anzianotto, diciamo. Anche lì sono rimasti molti amici. Marco Di Gian Domenico, poi ci sono pure Bucciarelli, là, che ha smesso ormai. Ben ricordi, ben ricordi. Ancora qualche altro? E questo è uno dei ricordi. Ecco, questo è Alessio Di Mattia, dirigente del Castellalto. A destra c'è un ex compagno di squadra del Castellalto, che è spagnolo, Fernando Galvez. Lui e Alcaraz erano. Alcaraz, sì, 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 io ancora sono in contatto con loro. Lui mi sembra che adesso giochi in Svizzera, addirittura. Non so quale campionato. Erano forti, erano forti questi ragazzi. Erano forti. Alcaraz invece si è sistemato, c'è Inghilterra, vive, c'è due bambini. Però segue, a volte ci ha scritto, mandava dei messaggi in base agli ospiti. Persone d'oro, d'oro. Ancora abbiamo gli ultimi ricordi, le ultime immagini di Daniela. Questa è un po' tua personale, che svela la tua fede. Questa è la mia passione. La malattia, diciamo. No, dai, malattia. Dipende a che livello. E sofferenza, è sofferenza. Sono grandi tifosi della Roma. Come mai? Scelta tipica. Da bambino, da bambino i colori mi hanno fatto scattare quella cosa. Allo stadio ci ho vado spesso, quando me lo concedono i campi e niente. Speriamo vada meglio quest'anno, ma la vedo dura. La Roma, la magica, lo sai che ha origini qua, no? Sì, sì, con rovoli. Il fondatore è Italo Foschie, lo dice a me. Io ho due tatuaggi da Roma. Proprio romanista d'occhio. Malato, malato. Va bene. Allora, andiamo qualche foto da commentare con Luigi. Anche, credo che siano finite quelle di Daniele, se non ricordo male. Troverete poche foto. No, ma qualcosa che riguarda sempre il cambio, ci aiuterai un po' a… Perfetto. Ecco, abbiamo detto poco, ad esempio, del Mist, del Presidente. Certo, certo. Tu sei riservato, è un aspetto positivo. Sì, mi piace più lavorare dietro le quinte senza mostrarmi, diciamo. Infatti anche questa piccola parentesi qui di televisia con voi è stata un po' una sorpresa. Mi ha chiamato il DS ieri e dice domani devi andare da Super J. La prima foto è bella, no? Sì. Sì, questi sono i nostri tifosi, la nostra cura, in quell'occasione, questa è la partita contro il Nereto, loro si erano un po' staccati dalla società, per motivi che io non conosco e non ho voluto nemmeno approfondire, l'unica cosa che ho sentito di fare è quello, comunque sia di riattaccare, riallacciare, diciamo così, il rapporto con loro, perché sono importantissimi. è venuto a mancare un nostro caro amico che faceva parte della curva, Gigi Ragni, scusami. quella è stata un po' la scintilla che è scattata per far sì che loro tornassero vivi tutte le domeniche. Per voi sono importanti? molto importanti, molto importanti perché, ti ripeto, il calcio a Campli è passato sempre in secondo piano, giustamente anche perché la parentesi cestistica a Campli è stata molto importante da molti anni, quindi sicuramente non vogliamo metterci a paragone al basket, però è anche vero che il calcio è presente, è molto vivo, ci piacerebbe avere sostegno della vostra gente. avere sostegno e dimostrare anche alla cittadinanza che esistiamo anche noi e che possiamo in qualche modo coesistere, sia a livello calcistico e sia a livello di basket. Andiamo avanti con la prossima foto. E questo è un altro passaggio fondamentale per farvi avvicinare la vostra gente? Sì, io ci tengo molto a questo impianto perché sicuramente darà ulteriori visibilità alla società Campli Calcio, anche al Paterno Tofo che è l'altra squadra che fa parte del Comune nel nostro comprensorio. Ci sono stati dei ritardi a livello di lavori, però sembra che le cose siano state risolte, ci saranno solo qualche mese di ritardo. A dicembre speriamo, incrociando le dita, dovrebbe essere pronto, quindi potremmo iniziare ad avere una casa, dove iniziare ad allenarci, sperando che poi ce lo riconsegnino per le partite ufficiali dove potremmo ospitare tutta la cittadinanza. Perfetto, ancora altre immagini per Luigi Cipriani. Questo è il mister e la panchina, due paroline dobbiamo dire. Quando sono stato interpellato dal DS Cialani per convincermi a far parte di questa famiglia, di questa società, l'unica cosa che ho chiesto è che si ripartiva dal mister Tiziano perché secondo me lui è una delle persone più capaci nella categoria, senza nulla a togliere agli altri allenatori, ma è una persona veramente fantastica, capisce di calcio, ma soprattutto è di un animo veramente grande e su questo noi stiamo lavorando. Con Alessandro ho un rapporto bellissimo, dico solo che sento più lui che la mia ragazza, infatti la mia ragazza comincia a essere un po' gelosa di questa cosa, ci sentiamo dalle prime ore del mattino per cercare di curare qualsiasi dettaglio mancante. Mi fa piacere che il mister abbia sposato questo progetto perché ci teniamo molto, anche a livello umano ecco, ci interessano poco i risultati, ma abbiamo cercato quest'anno di scegliere anche delle persone adatte alla nostra famiglia, alla nostra casa. Chiudiamo con forse la persona, sicuramente la persona più importante. Il nostro Presidente, il grande Francesco Isidoro, che vi ripeto io all'inizio, quando è nata il campo di calcio, fui io a indicare alla dirigenza la sua presidenza, perché pensavo fosse la persona più adatta a ricoprire quel ruolo, lo ha fatto nei migliori dei modi in questi 9 anni, si è molto sacrificato, ha investito, ci è stato vicino nei momenti difficili. Io lo ringrazio tanto perché comunque sia una colonna portante della società, mi viene a sorridere perché molte cose non le posso dire, però lo ringrazio, lo ringrazio veramente tanto e speriamo che continui in questa bellissima vita. A metterci sempre la sua carica di passione. Sì, passione, un uomo carismatico molto passionale, molto passionale. Esatto, lo salutiamo, come salutiamo tutta la società, tutta la squadra del Campi e gli amici che appassionati che ci stanno seguendo questa sera. Chiudiamo la serata, sperando sia stata di vostro gradimento, con la goleadina, è un gioco che spero lo conosciate, ogni settimana sottoponiamo voi e tutti gli amici che poi da domani lo faranno sui social 8 pronostici, il migliore e il più bravo se ne andrà a cena dai nostri amici. Una parola che adesso non la userei, tutto gratis, è un gioco, quindi è il Madre Natura che gratuitamente offre una cena al più bravo, tra i pronosticatori, non voglio dire nemmeno la parola scommettitori. Stai attento a dirlo. Queste sono le 8 partite dalla promozione alla terza categoria che abbiamo individuato, partiamo con Alba Adriatica-Mutignano 1x2, prima Luigi e poi Daniele. Allora, Alba Adriatica-Mutignano io metterei un 1. Daniele? X. Atletico-Teramo-Insula, scendiamo in prima categoria. Questa è una bella partita, è una bella partita, io dico non me ne vogliono gli amici dell'Atletico-Teramo ma metto un 2. Hai doppia, non ci sta, no? Puoi metterla ma non concorri poi ho alla cena. X. Ok. Torricella-Nepezzano, ancora prima categoria. Torricella-Nepezzano, io metto un X. Daniele? 1. Seconda, Cortino-Bellante. Cortino-Bellante, conoscendo anche la società del Cortino, un po' meno quella del Bellante, io direi un 1. Un 1, sì, per me anche 1. Siete d'accordo su questa? Controguerra-Rial Castellalto? Questa... Qui metterei più un X. Per me è 2. O Rial Castellalto? L'affetto, l'affetto, la fata padrone. Allora, scendiamo in terza categoria, Big Match, potrebbe essere, anzi sicuramente lo è, Corropoli-Rocca-Santa Maria. Con Rocca, guarda, io avendo origini di Marchia da Sole, nel Comune di Valle Castellana, metto un 2 per il Rocca-Santa Maria. Per me è X. Piano Grande, Tossicia. Qui metterei un 1. 1. E chiudiamo con Polisportiva Pinetum, Valle del Vomano, di Mr. Ettore Rocci. Qui, non conoscendo bene le due squadre, metterei più un X. 2, 2. 2, 2, per Ettore. Ettore, sì, sì. Va bene, va bene, grazie. Grazie a voi. Grazie per la golladina, soprattutto di essere stati qui con noi. Di averci parlato del Campi, dei vostri progetti. Vi facciamo un grosso, io personalmente, tutta supergeri, tutta golladina, vi facciamo un grosso in bocca al lupo. Grazie mille, grazie mille. E magari ci ritroviamo strada facendo. Sperando, insomma, per voi di vedervi più in alto possibile in classifica. Ma come hai detto bene, mi è piaciuto, a prescindere dalla classifica, come progetto. Sì, progetto. Facendo le cose per bene, senza... Senza fare il passo più lungo della casa. Esatto, esatto. Grazie Daniele, grazie Luigi. Grazie a voi. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Continuate a seguire la programmazione di Super J. Goleada torna fra 7 giorni. Buonanotte a tutti.